gentili telespettatori un cordiale saluto da marco d'agostino e ben ritrovati su visione tv con grande piacere che vi presento l'ospite di oggi il professor daniele archibuggi grazie per aver accettato il nostro invito buon pomeriggio il professor archibuggi ha pubblicato ad ottobre dello scorso anno questo libro facciamo vedere la copertina eccolo qui maestro delle mie brame alla ricerca di federico caffè edito da fazzi editore ecco magari voi gentili telespettatori non avete una grande dimestichezza con il personaggio di federico caffè io cercherò brevemente di farne di farne la biografia ecco federico caffè è stato uno dei più grandi economisti italiani del secolo scorso era docente di economia di politiche economiche finanziarie all'università la sapienza di roma dalla sua scuola sono venuti fuori tanti economisti di fama tra cui mario draghi bruno amoroso nicola cocella mario tiberi e anche il professor archibuggi che è qui gentilmente oggi con con noi ecco il professor caffè è scomparso all'alba del 15 aprile del 1987 viveva in una casa a roma con il fratello alfonso che quando è scomparso non si accorse di di nulla ecco da quel giorno federico caffè non è mai stato ritrovato e la sua scomparsa resta un mistero ecco professor archibuggi o la prima domanda che volevo farle che ricordo a lei di federico caffè è stato suo allievo ha fatto la tesi con con lui cosa ha rappresentato per lei fatemi dire che il mio rapporto con federico caffè era un po speciale perché era stato testimone di nozze dei miei genitori quindi mi aveva conosciuto da bambino e poi ovviamente essendo stato l'unico tra i miei fratelli e sorelle che si è scritta economia io credo che negli ultimi dieci anni della sua vita sono stato una delle persone a lui più vicino senz'altro lui è stata una delle persone a me più vicino c'è un rapporto quotidiano di scambi di opinioni e di scherzi e di tante altre cose del genere e devo dire che quindi ho beneficiato di federico in due qualità diverse è stata una figura è quasi paterna ma è stato anche un ottimo insegnante un ottimo insegnante perché mi ha dato la cosa che più serve ad un ragazzo in quegli anni formativi ossia mi ha dato la fiducia a me stesso perché aveva voglia di capire aveva voglia di ascoltare e quindi alla fine nonostante ci fossero più di 40 anni di differenza tra noi due posso dire che veramente federico è stato per me una sorta di compagno di studi ecco lei si ricorda il giorno della scomparsa cosa dove era come l'ho apprese ma sì me lo ricordo molto bene e quello che il mio libro comincia con questa narrazione tant'è vero che qualcuno ha addirittura paragonato ad un thriller io quella mattina mi chiamò alle sette alfonso il fratello anche lui celibie con cui federico viveva perché pensava che federico fosse venuto a casa mia e quindi voglio dire pensava che magari io ne sapessi qualcosa più di lui purtroppo non è stato così ma io mi arrampicai subito nella collina di monte mario dove vivevano e da lì cominciò la ricerca prima fatta da un gruppo spauruto di suoi allievi eravamo non più di 6 7 a cercarlo e poi dopo sei lunghissimi giorni in cui la notizia fu tenuta nascosta una scelta che io non condividevo però ero anche più giovane ero il più giovane tra i suoi come dire ai colleghi assistenti dopo quei primi sei giorni la notizia fu data alla stampa e quindi ci fu una ricerca che non fu soltanto fatta da questo piccolo gruppo di persone ma un pochettino da tutti quanti ecco io volevo adesso soffermarmi su federico caffè economista ecco quali furono i contributi del del professor caffè all'economia federico è stato un uomo molto molto attivo nella sua vita perché si dedicava moltissimo all'insegnamento e lui aveva una capacità straordinaria che era quella di far sentire tutti i suoi allievi come se fossero dei figli unici io non so come può un insegnante che c'ha tanti allievi riuscire a farcela con tutti ma lui c'era questa capacità e poi partecipava al dibattito accademico era sempre informatissimo sulla realtà economica e quindi voglio dire tutti i giorni si aggiornava manovrava proprio sulla punta delle dita le variabili della politica economica e questo qui lo faceva non soltanto con la produzione accademica ma anche contribuendo sulle testate che ospitavano le sue idee lui è stato un collaboratore per molti anni del manifesto e appunto lui ci scherzava perché diceva scriveva al direttore del manifesto il suo amico valentino parlato dice ti ringrazio per aver chiesto la mia opinione perché sei l'unico direttore di un giornale che vuole sapere come la penso e questo perché le sue idee erano economicamente idee coraggiose ad esempio caffè diceva che forse la borsa si poteva abolire e che c'era un era una fonte di speculazione era una persona che suggeriva di fare degli interventi radicali per combattere la disoccupazione soprattutto nel sud italia lo ripeto soprattutto nel sud italia e faceva anche presente che c'era forse un rischio in un'integrazione europea troppo rapida perché c'era il pericolo che le aree periferiche compresa appunto l'italia le regioni più periferiche venissero poi tagliate fuori dai processi produttivi e certo tutte queste opinioni un po così coraggiose erano opinioni che spesso non trovavano un orecchie facili nei giornali della confindustria ad esempio o anche nei giornali come la gran parte dei giornali italiani che erano in direttamente o indirettamente legati ai gruppi industriali italiani ecco dopo aver delineato la figura del professor caffè dal punto di vista appunto accademico e quali erano i suoi pensieri dal punto sulla sull'economia io volevo soffermarmi adesso sulla sulla scomparsa ecco il professor caffè come abbiamo detto in precedenza è scomparso all'alba del 15 aprile del 1987 non è scomparso cioè si può dire che non sia scomparso del tutto improvvisamente perché qualche giorno prima era morto primo levi probabilmente per per suicidio ecco e caffè ne rimase molto colpito e arrivò ad affermare perché così perché sotto gli occhi di tutti perché sta straziare i parenti ecco quindi questa era una sorta di avvertimento secondo lei sì io devo dire su questa cosa di primo levi non ne parlò con me quindi non posso dire però voglio dire il problema è c'era ed era forte federico era affetto da una profonda repressione era un uomo di 73 anni e la ragione di questa depressione come cerco di spiegare nel libro è stato il fatto che lui improvvisamente è stato privato della più grande gioia della sua vita ripeto la più grande gioia della sua vita per lui la sua grande gioia era insegnare andare in classe con gli studenti seguire una classe vedere crescere di anno in anno questa classe e quindi improvvisamente quando per limiti di età dovuto andare in pensione lui ha avuto un tracollo molto forte e questo anche la ci dice no come lui intendeva il ruolo di insegnante quanti sono gli insegnanti che detestano fare il proprio lavoro che cercano di fare tutto quello che possono per non andare in classe per non andare a insegnare per non occuparsi degli studenti che si prendono malattie dove queste malattie non ci sono lui era esattamente il contrario era uno di quegli insegnanti e anche di questi insegnanti in italia ce ne sono tanti ripeto ce ne sono tanti che amava il suo lavoro lui riteneva che insegnare e avere un rapporto con gli studenti fosse un privilegio e quindi ha avuto questo tracollo per cui è che è durato vari mesi e io credo che purtroppo i suoi allievi me compreso non abbiamo capito quanto profondo era questo tracollo anche perché lui era era il capo era come dire professore e quindi per tutti i problemi della vita accademica della sua circhia tutti si rivolgevano a lui non ci aveva abituato a pensare che anche lui potesse avere dei problemi questo anche per colpa sua per il suo modo di fare era un uomo generosissimo che era sempre capace di dare ma non era capace di ricevere io questo ricordo uno dei tanti episodi che ricordo il giorno in cui mi laureai gli volevo fare un regalo un piccolo regalo per riconoscere di riconoscenza e un regalo che non fosse i soliti scambi che ci facevamo di libri non solo libri d'economia anzi soprattutto libri romanzi o qualcosa del genere però quella volta decisi di fare di un regalo diverso e questo regalo era una cravatta federico era molto austerio nel modo in cui si vestiva si vestiva sempre di blu o di grigio e quindi c'aveva delle camicie ogni tanto azzurre con una cravatta anche questa blu e io allora pensai di fare una cosa come dire in desueta e di regalargli una cravatta blu ma che aveva dei piccoli puntini rossi un pochettino così per raggiungere un po di di colore a questa sua persona e dopo che appunto mi laureai poi scesi c'erano tutti i miei compagni che stappano delle bottiglie mi fecero bere però dopo quindi ero già pure un pochettino leggermente brillo e eufonico come può essere un ragazzo che si è appena laureato tornai al sesto piano dove c'era la sua stanzetta mi chiusi dalla sua stanzetta e tira fuori dalla mia borsa questa cravatta e gliela volevo dare e lui non la voleva prendere mi disse io non posso prendere un regalo da uno studente a me che voglio dire ero ero uno studente ma era anche un amico e quindi potete immaginare io pure un pochettino mi alterai poi quelle quei bicchieri che avevo bevuto mi avevano pure reso un pochettino più spaccone per cui acchiappai lo presi per il braccio e gli disse non sono più uno studente perché mi ero appena laureato e allora presi questa cravatta aprì il suo borsone e gliela misi dentro e lui rimase stupito rimase stupito da questa mia audacia improvvisa però la mia determinazione era tale che a quel punto voglio dire ci abbracciamo ecco io quell'abbraccio era quattro anni prima che lui sparisse quell'abbraccio me lo ricordo molto e quindi mi ricordo molto che l'abbraccio è come dire sono rammaricato di non avere avuto la possibilità di abbracciarlo più spesso appunto l'ho detto prima lui era celibe viveva col fratello e quindi anche lì in tante volte ci siamo chiesti ma questo questo uomo così solitario poi non avrà anche lui bisogno come tutti noi di un contatto fisico con le persone che gli vogliono bene e con le persone a cui vuole bene e noi questi contatti fisici purtroppo perfino io che ero forse quello più come dire autorizzato ad averlo proprio perché mi aveva conosciuto da bambino purtroppo non ce l'abbiamo mai avuti ecco da professore archibugi da questo racconto si evince veramente che il vostro rapporto era veramente stretto e intimo le posso chiedere se si ricorda anche il giorno in cui lo vide per l'ultima volta sì certo me lo ricordo bene perché siamo stati poi come dire abbiamo dovuto ricostruire tutto io l'ho visto il giorno e la domenica prima lui è sparito tra la notte tra martedì e mercoledì di aprile 15 aprile del 1987 io andai io già all'epoca lavoravo quindi non avevo tutti i giorni liberi però la domenica la domenica andavo spesso a casa sua dove appunto e quindi andai a casa sua e ogni tanto come dire nel suo lui aveva anche a casa un piccolo studio dove ci diceva per questa sua abitudine anche di tenere separata la vita professionale dalla vita familiare io Alfonso che pure ho conosciuto anche lui da bambino ma Alfonso ho avuto una frequentazione con Alfonso negli ultimi mesi della vita di Federico e dopo e allora lì ho avuto la possibilità di conoscere meglio anche il fratello e in quell'occasione mi ricordo cercammo di stare un po' insieme poi lui appunto per questa depressione spesso non riusciva a dormire e quindi ogni tanto quello che facevo era quello di farlo stare nella sua poltroncina mettermi a leggere o far finta di leggere in modo che lui magari si assupiva per qualche minuto quando uno soffre il sonno anche qualche minuto di sonno è molto forte e io rimasi là fino a quando fece buio e poi a un certo punto lui si era assopito io me l'ho messo a sfogliare un libro qualsiasi ma come dire non è che stavo leggendo volevo far capire che non mi pesava stare lì da lui e poi alla fine ho chiappato e mi sono andato a casa mia ecco è stato un errore io all'epoca non ero sposato vivevo da solo non avevo obblighi ero un ragazzo di 27 28 anni a me non mi sarebbe costato nulla mettermi a camparmi a casa sua andare a dormire nel suo studio e stare in quella casa insieme a lui e al fratello potevo uscire la mattina andare al lavoro tornare la sera cenare con loro se volevo poi alla sera uscire con gli amici l'avrei potuto fare e probabilmente avrei dato un pochettino di vita a quella casa anche perché i suoi affezionatissimi nipoti che erano due studenti fuori sede perché venivano da Pescara loro si sono molto appoggiati alla casa degli zii negli anni universitari ma poi si erano tutte e due giustamente sposati e per quanto avessero una frequentazione assidua della casa degli zii non abitavano più là e quindi questo grande appartamento alla fine si era svuotato ed erano rimasti loro due Alfonso che era abbastanza malato anche se era di più di dieci anni, più giovane di Federico e Federico che appunto aveva questa depressione e lì probabilmente la presenza di un ragazzo come ero io che era un ragazzo vivace, chiacchierone, invadente ma che nei suoi confronti aveva un enorme affetto forse avrebbe potuto aiutarlo a superare questa terribile depressione Ecco, la scomparsa di Federico Caffè ricorda un'altra scomparsa nota quella del fisico siciliano Ettore Majorana scomparso nel marzo del 1938 ecco, addirittura nel letto dove dormiva il professor Caffè fu rinvenuto un libro, un famoso libro di Leonardo Sciascia la scomparsa di Majorana Di Majorana si disse che si rifugiò in un convento ecco, probabilmente nella certosa di Calci a Pisa o anche, alcuni dicono, nella certosa di Serra San Bruno in Calabria ecco, è possibile che il professor Caffè abbia seguito questa strada? Lei come la vede l'ipotesi monastica? Allora, siamo innanzitutto precisi perché qua bisogna essere precisi quando uscì il libro di io e Federico avevamo questo gioco di scambiarci romanzi aspetti, aspetti, li faccio vedere perché me li sono ecco, me li sono poi ricomprati e avevamo questo gioco che i romanzi non è che si tiravano a caso dovevano essere dei romanzi che poi avessero un filo logico quindi ce li prestavamo anche perché Federico mi faceva troppi doni e io mi imbarazzava, no? e quindi, voglio dire, non potevo accettare tutti questi doni e allora poi ci mettevamo d'accordo che invece di fare doni c'erano prestiti e quindi io potevo pure prestare a lui un libro il primo libro che in questo contesto fu Discipazio Mani Generis di Guido Morselli questo è un libro di una persona che decide di sparire buttandosi in una grotta e che poi cambia all'ultimo momento idea e che dopo che ha cambiato idea torna a casa e trova che l'umanità è sparita quindi si trova lui da solo in un mondo in cui ci stanno gli oggetti le automobili, le case ma mancano le persone quando lesse questo libro Federico Caffè mi restituì un altro libro che era Pirandello e fu Mattia Pascal un altro romanzo di una persona che sparisce e che poi ritorna e quindi ci fu questa sorta di gioco di carte un libro sull'altro e ovviamente visto che Federico era come dire un professore non senza una scoppola e la scoppola fu quella di dire si comincia a leggere i classici come se mi volesse rimproverare di aver letto prima un attore contemporaneo come Morselli piuttosto che il classico di Pirandello io ho lessi il fu Mattia Pascal e a quel punto gli mi si sopra la scomparsa di Majorana di Ettore Sciascia scusi la scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia attenzione non questa edizione l'edizione che era appena uscita pubblicata da Inaudi che era il libro di casa il libro di mia madre per cui non è vero che lui aveva il libro di Sciascia a casa non ce l'aveva perché dopo che se l'era letto me lo restituì e sta ancora oggi a casa mia tra i libri di mia madre no? e tutto questo come dire scambio di libri su persone sparite avveniva dieci anni prima della sua scomparsa questi libri ce li siamo scambiati dal 77 al 78 lui è sparito nell'87 quindi nove dieci anni prima e ovviamente quando poi è scomparso io mi sono dovuto andare a riprendere questi libri tutte e tre me li sono tutte e tre riletti per riuscire a vedere se da questi libri ci fosse qualche indizio che magari avevo trascurato e per riuscire a capire dove si potesse essere cacciato le dico subito che se doveva essere un convento cosa che era possibile certamente non era San Bruno no ma mi perdoni professore io parlavo di quando ho citato la certosa di Serra San Bruno parlavo di Majorana non di Federico Caffè ah certo perché Majorana si disse che poteva essere o nella certosa di Pisa o a Serra San Bruno non mi riferivo al professor Caffè ecco però ci è andato vicino perché alcuni ad esempio Ermano Rea che ha scritto un libro su Caffè è andato addirittura alla certosa di Serra San Bruno a cercarlo capisce? quindi c'è stata questa idea che forse era andato proprio a finire da quelle parti no? ora è una voce che ogni tanto gira io tra l'altro le dico un mese dopo che Federico era sparito siccome c'avevo un mio prozio che era un alto prelato in Vaticano io andai a fare un'ispezione insieme accompagnato da mio zio con il capo di questa un cardinale che era capo di questa congregazione e appunto chiesi se era possibile entrare in un convento senza dare le proprie generalità e fu una lunga conversazione questo cardinale era un cardinale mi sembra francese o belga comunque aveva un forte accento francese quando parlava italiano e questo qui mi spiegò con grande accuratezza come si entra qual è la differenza tra come dire i conventi che sono direttamente affiliati alla Santa Chiesa Santa Madre Chiesa e quelli che invece dipendono dalle sedi vescovili che a volte ci stavano dei ritardi nella trascrizione delle persone che si rifugiavano nei conventi e io lo incalzai più possibile e lui a un certo punto mi ricordo si arrabbiò perché appunto ripeto era un giovane un pochettino indisponente forse a un certo punto sbottò e mi disse ma Santa Madre Chiesa non è la legione straniera no? mi disse e io ho capito sì mi fa piacere ma è possibile che qualcuno si rifugi di un convento senza che poi lo venga a sapere il vescovo e quindi neppure la Santa Madre Chiesa questo cardinale alzò le braccia si buttò indietro sulla poltrona e mi disse ma come vuole che noi possiamo sapere quello che succede in tutti i conventi del mondo e quindi da questo punto di vista neppure lui lo escludeva ma se questa è la mia opinione personale se doveva essere convento Federico era così abruzzese che quel convento poteva essere solo ed esclusivamente nel suo Abruzzo certamente non altrove ecco invece dell'ipotesi del suicidio lei cosa cosa ne pensa perché io so che nel libro anche cita un ricordo molto toccante cioè il professor Caffè viene da lei e le chiede Daniele aiutami ad uccidermi ecco cosa ne pensa lei di questa ipotesi era era parte del suo delirio dovuto a quella brutta depressione che ci aveva e quindi certo c'era pure questa componente e quello mi ricordo quando andammo alla squadra mobile della questura di Roma furono loro i primi a dirci quello che succedeva e loro ci hanno detto una casistica di persone che si uccidono e non si trova il corpo non esiste e quindi loro erano convinti che prima o poi in qualche campo lontano in qualche posto abbandonato si sarebbe trovato il cadavere di Federico questo era la loro ipotesi però sono passati sono passati 30 quanti anni 36 anni sono passati 36 anni e questo cadavere non è ancora venuto fuori da nessuna parte e quindi voglio dire certamente oggi Federico non potrebbe essere vivo lui era del 14 quindi avrebbe oggi 109 anni era di famiglia nongeva ma è molto difficile vivere fino a 109 anni però questo spiega perché poi alla fine questo uomo che era un uomo di grande determinazione e di grande intelligenza qualsiasi cosa abbia deciso di fare è riuscito a farla e nessuno di noi allievi è riuscito a capirlo ancora ecco a parte il periodo di depressione che lei ha citato ecco è possibile che vi fossero altre motivazioni per cui il professor Caffè avesse deciso di sparire non so magari lo scarso seguito delle sue teorie come lei ha citato in precedenza oppure cosa ne pensa ecco io voglio dire io ripeto Federico era un uomo tenace era un uomo che aveva una forza di volontà incredibile era un uomo grandissimo lavoratore lui aveva avuto grandi dispiaceri nella vita questo qui l'abbiamo detto i grandi dispiaceri che avevano avuto oltre aveva perso prima la mamma però lei capisce aveva perso la mamma che aveva e aveva 64 anni sono pochi quelli che hanno ancora la mamma a 64 anni aveva perso la tata però appunto era un uomo che viveva con la tata lui aveva 70 anni e viveva ancora con la sua tata aveva perso tre allievi a cui voleva bene Ezio Tarantelli ammazzato dalle Brigate Rosse Fausto Vigarelli e Franco Franciosi però io lo ripeto lui era un uomo forte di carattere forte sapeva superare le avversità quello che veramente è stato il momento di rottura è stato quando improvvisamente per limite d'età non ha più potuto insegnare ai suoi studenti ecco io volevo farle un'ultima domanda professore abbiamo detto che il caffè era diciamo un uomo che a parte un uomo forte molto tenace ma un uomo che aveva delle idee politiche molto cioè idee economiche molto coraggiose ecco era praticamente contrario al pensiero al liberismo ecco degli anni degli anni 80 che poi si è affermato anche fino ad oggi secondo lei oggi il professor caffè cosa cosa penserebbe della società in cui ci troviamo ecco questo è questo è difficile dirlo perché un po' Federico lo tirano tutti da tutte le parti quindi io questa è una domanda veramente difficile e non credo di essere la persona che più fedelmente può interpretare il suo pensiero anche perché questo ci tengo a dirlo nonostante io mi sia sentito umanamente la persona più vicina a lui tra tutti quanti i suoi allievi ritengo che altri suoi allievi che lei ha citato come ad esempio Nicola Cocella Mario Tiberi e Maurizio Franzini siano forse intellettualmente rimasti più fedeli al suo magistero e io a volte invece continuo ad avere dentro di me questo dialogo anche polemico con Federico perché a me Federico ed io ci piaceva avere posizioni diverse se no che gusto c'era a chiacchierare se tutti quanti diciamo la stessa cosa anche perché appunto ripeto lui era un cattedratico io ero poco più di uno studente per cui mi potevo permettere di dire un sacco di frescacce però credo che su alcune cose Federico alcune cose sarebbero rimaste perché sono state dette coerentemente nel corso di tutta la sua vita primo la dignità del lavoro per dare alle persone dignità bisogna che queste persone abbiano un ruolo sociale e che questo ruolo sociale sia esplicato nel lavoro e che il fatto che ci sia una quota alta di persone che non lavorano è il più grande spreco di risorse che ci sta 10% della forza lavoro in Italia è rappresentato da persone che non lavorano peggio ancora che sono state addirittura scoraggiate da cercare lavoro quando siamo pieni di bisogni che bisogna soddisfare la seconda cosa è che una società si regge nel momento in cui si prende cura di tutti quanti e quindi che bisogna prendersi cura dei piccoli dei bambini bisogna prendersi cura degli anziani bisogna prendersi cura dei deboli bisogna prendersi cura di tutte quante le persone che ne hanno bisogno e io credo che queste due lezioni vanno molto al di là dell'economia sono lezioni di quella che lui chiamava in alcuni suoi scritti una economia civile e che ancora oggi purtroppo è trascurata perché siamo in un mondo in cui poche persone hanno troppe risorse e molte persone non hanno alcuna risorsa e questo è quello che alla fine mina la struttura della società ecco io professore Archibuggi la ringrazio per essere stata con noi non so se la regia può far rivedere la copertina del libro eccolo qui Daniele Archibuggi maestro delle mie brame alla ricerca di Federico Caffè ecco è stata un'intervista in cui abbiamo toccato molti punti ecco abbiamo parlato dell'uomo Federico Caffè dell'economista Federico Caffè anche della sua misteriosa scomparsa ecco e di quello che ha rappresentato anche per per i suoi studenti e per lei in particolare grazie mille per essere stato con noi grazie a voi ecco e con ciò l'intervista si è conclusa noi vi ricordiamo che Visione TV vive soltanto grazie alle vostre donazioni potete farlo tramite bonifico tramite Paypal attraverso i numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione oppure tramite una abbonamento sul nostro sito www.visionetv.it noi vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima e alla prossima e alla prossima